Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo fotocollage questo è un fotocollage dedicato a quello che abbiamo fatto durante il compleanno di Andrea 93 ovvero un mio ragazzo, me lo sapete tutti abbiamo fatto delle foto di gruppo che potete vedere inizialmente poi vi lascerò nel vedere e ammirare quello che abbiamo mangiato quello che abbiamo fatto insomma e niente, spero che questo video vi piaccia commentatelo, diteci cosa ne pensate abbiamo passato comunque una bella serata abbiamo mangiato tanto vedrete appunto che c'è la torta, quello che abbiamo mangiato quello che abbiamo fatto e anche qualche spezzone di video che sono riuscita a montare in una maniera abbastanza accettabile e niente, ci tengo a precisare che siamo andati in un ristorante giapponese quindi appunto se vedete solo sushi sapete perché, in formula, you can eat niente, buono bisogno di questo video e anche se vedete solo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.